Oh, vediamoci qua, finalmente ci siamo, vedete il video selfie con un po' di video, perché siamo andati a una sosta, e sono senti a rovo, e adesso, 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 attenzione, ecco così, questo è quanto, non c'è particolarmente gente sugli impianti, probabilmente arriveranno tutti tra domani e dopodomani, insomma, per fare il capodanno, insomma, quei giorni lì, e che dire, siamo, insomma, in un stagione interessante, ma anche se non è che abbiamo dedicato poi tantissimo, insomma, è un po' strano, comunque speriamo che finisca bene, insomma, è nulla, ecco qua. No, si vede, cioè, non è che si vede benissimo, però addio che c'è Monginevro, e nulla, puoi claveare prima, ma è buono. Questa è lì? Marche.